Allora eccoci arrivati nella libreria Croce di Corso Vittorio dove ci imbattiamo in Paolo Marcacci. Buonasera, buonasera di nuovo, sta diventando una piacevole abitudine, almeno per me. E per i ragazzi? E per i ragazzi anche. La curiosità, assolutamente, la curiosità diciamo viene mangiando, viene leggendo ci piacerebbe dire, forse è un po' presto per dire questo, però sicuramente si stanno instradando, chissà che una volta non sia possibile poi insomma farli anche partecipare fisicamente, oltre che per via di opinione, di lettura. 1926 liberatori e firme contro i figli, se fanno i genitori separati è un disastro. E ti sei tenuto basso, molto basso. Comunque Piero intanto però l'abbiamo interpellati su un argomento abbastanza abbordabile. Uno degli argomenti sia abbordabili sia anche nobili comunque dal punto di vista letterario, almeno questo è il mio pensiero. Nobili abbordabili. Sì, certo, c'è una, diciamo, non solo una rima ma anche una certa alliterazione. Parliamo di Andrea Camilleri, parliamo di Andrea Camilleri e in particolare del personaggio del commissario Montalbano con non tanto uno dei romanzi usuali ma con una raccolta, magari un po' meno celebre, che si intitola proprio Un mese con Montalbano. Sono 30 raccontini. Lavorata, sudata, vissuta. Questo lo facciamo vedere. Particolarmente vissuta dal punto di vista della lettura. 30 racconti che parlano della vita, chiaramente dei casi risolti dal popolare commissario, impersonato da Luca Zingaretti in televisione, da quando era giovane fino alla cosiddetta maturità. La lettura in classe che effetto ha sortito? Allora, la lettura in classe che effetto ha sortito? Vogliamo andare con dei pareri proprio che io ho raccolto il campionato? Parliamo di una terza media, terza C dell'Istituto Boccea 590. Che salutiamo. Che salutiamo, come sempre, questo mi sembra ovvio, anche perché lo si fa per questo. Allora, dice Alessandra, mamma mia che brutto, mio nonno si vede sempre l'ho sceneggiato in televisione, ma lei lo legge perché è calvo come lei? Ci sono anche altri motivi, veramente, a parte questa, diciamo, similitudine fisica, perché ovviamente i ragazzi sovrappongono spesso quello che è il personaggio televisivo con i romanzi da cui nasce, ovviamente. Secondo parere. Dario dice, professor, io ci ho, professor, con l'apostro, con chiaramente il troncamento, io ci ho provato, ma ho visto che quello parla spesso de mania. È vero, perché parla spesso di mangiare? Perché Montalbano spesso si intrattiene tramite la penna di Camilleri nel parlare proprio di tutte le leccornie che la cucina siciliana offre, soprattutto grande consumatore di pesce nella immaginaria vigata. Poi ci dice Matteo, io a casa avevo un libro di mio padre che si chiama Gli arancini di Montalbano, uno dei più celebri, ma è pieno di errori d'ortografia. Lei strilla a noi e poi legge queste cose, ci dice, perché chiaramente c'è questa commistione dialettale tra siciliano e italiano che ovviamente ai ragazzi non è sfuggita e magari è stata un po' difficile. Ancora con Ludovica che scrive e dice, ma perché scrive in questa maniera è peggio di quando abbiamo letto Rosso Malpelo. C'è quindi, qui c'è una bella intuizione, un apparentamento fra Giovanni Verga e possiamo dire lo storpiamento ad arte di Andrea Camilleri. A proposito, ti interrompo un attimo, perché adesso dobbiamo fare quella cosa orripilante che sia in televisione che anche in radio è pubblicità. In uscita però c'è proprio un'intervista. Ma non è orripilante la pubblicità, adesso non mi dai. Orripilante perché spezza questo ritmo alto che stavamo cercando di appalciare. 1,78, non è che poi tanto. Nel frattempo noi vediamo un'intervista che ha rilasciato Andrea Camilleri e Lucia Ascione. Questa sì che ci nobilita. Tra le altre cose racconta proprio un interrogatorio fatto da Giovanni Falcone a un imputato di mafia e che parla proprio del rapporto tra dialetto e lingua italiana. Abbiamo anche un passo sulla mafia poi. E allora ne apriamo subito dopo. Con piacere. Un giorno mi trovai a parlare con uno dei tre magistrati che costituirono il pool antimafia Falcone, Borsellino e questo terzo magistrato che adesso non fa più il magistrato. E io gli chiese, dico, ma Di Lello si chiama, dico, senti Di Lello, ma Falcone come interrogava i mafiosi, mi disse, si metteva a paro del mafioso, aveva questa enorme capacità e parlava in dialetto. Una sola volta gli capitò di essere scornato con un tale che si chiamava Pino, soprenominato Upigiaro, cioè dire il conciatore di pelle. Allora lo chiamò, si si è detto, la tolce, la Di Lello si sente Pino Upigiaro, io ti voglio spiare una cosuzza che tu però mi rispondi. Fermo, giudice, fermo. Io mi chiamo Giuseppe Lofrancesco, soprannominato il conciatore di pelle e da ora qui si parla in italiano. Quello si rifiutò, chiuso e bloccò, capì dove era, dove poteva arrivare Falcone col dialetto e disse parliamo in italiano. Via tutte le sfumature e i sottintensi possibili nel dialetto.